Io avrei voluto giocare se ci fossero state le possibilità che poi non ci sono state perché sarebbe stato bello dopo aver ripreso un bel cammino fuori casa fare la nostra quarta partita nel nostro stadio. Questo non è stato possibile quindi guardiamo avanti e abbiamo davanti un appuntamento molto complicato ma la cosa che ci fa piacere è che come al solito anche in questo appuntamento avremo il supporto dei nostri tifosi che saranno numerosi e saranno presenti e ci aiuteranno come hanno sempre fatto quindi sta a noi mettere il resto, provare a fare una partita gagliarda, con ferocia perché sappiamo che gli avversari che introviamo sicuramente useranno tutte le armi a loro disposizione per provarci a mettere in difficoltà. Le vittorie non ci devono far stare tranquilli perché quando poi si sta troppo tranquilli e dietro l'angolo arriva la sorpresa invece noi non vogliamo essere tranquilli ma vogliamo avere la concentrazione al massimo mantenere i piedi per terra perché sappiamo che c'è un rischio alto in questa partita abbiamo una grandissima responsabilità perché la nostra società ha fatto tanto per far sì che i nostri tifosi fossero presenti nella partita di domani e noi siamo contenti di questo perché questo sostegno a noi ci serve loro non lo hanno mai fatto mancare e questo sostegno lo vogliamo ricambiare con una grandissima prestazione perché sappiamo che è una partita a cui tutti teniamo tantissimo. La situazione è che abbiamo sei ragazzi da aggiungere il portiere Berardi che sono out per vari motivi che saranno Salzano e Economu Brienz e Floro Flores che rientreranno lunedì credo anche con Emper Euro che ha avuto un fastidio negli ultimi giorni e che quindi rimarrà a casa e con Busellato che è stato contagiato da un virus che purtroppo intestinale che sta girando nello spogliatoio e mi auguro non faccia ulteriori danni con gli altri siamo in 20 giocatori disponibili tutta la rosa con tre portieri e partiremo per fare questa partita difficile e importante sapendo che da adesso come è stato prima avremo bisogno di tutte le nostre risorse interne per provare ad avere la meglio degli avversari di turno a partire dall'Avellino domani. Io sono convinto che Cristian come tanti altri suoi compagni possa ricoprire varie posizioni di campo come ha già fatto e lo può fare bene e lo può fare meglio come tutti noi possiamo migliorare le cose che stiamo facendo. Credo che abbia disputato delle ottime partite perché la squadra è stata molto attenta nel non concedere agli avversari gli spazi e quando la squadra è attenta nel non concedere agli avversari gli spazi agli avversari sicuramente sono partecipi tutti i giocatori a partire dai giocatori offensivi per noi sono fondamentali loro quando dobbiamo rispingere gli attacchi degli avversari e sicuramente siamo in grado di poter proporre qualcosa di migliore rispetto a quello che abbiamo fatto nelle ultime partite però penso che sia indipendente dalla posizione dell'uno e dell'altro giocatore perché al di là delle posizioni in campo poi abbiamo dei compiti e delle idee ben precise che sono quelle di provare a sviluppare il nostro gioco per attaccare le porte avversarie e penso che Cristian abbia le qualità per poter attaccare la porta sia se parte più spostato a destra sia se parte a sinistra che se parte dietro un riferimento centrale noi sappiamo tanto di quello che proverà a fare la nostra squadra che affronteremo questa squadra viene da una vittoria casalinga è un pareggio esterno contro la squadra più in forma del campionato e questi risultati possono dire tantissimo su quello che è il momento che stanno attraversando troveremo degli avversari che hanno entusiasmo troveremo degli avversari che nel loro campo credo abbiano un percorso da playoff se non qualcosina in più conosciamo le difficoltà della partita però conosciamo anche quelli che possono essere i nostri pregi sapendo che per poterli esprimere dobbiamo affrontare la partita con le caratteristiche fondamentali che servono per affrontarla e quindi c'è bisogno di una squadra che risponda a questo entusiasmo degli avversari con altrettanto entusiasmo che risponda con ferocia e con agonismo a quello che vogliono proporre gli avversari e che sappia nei momenti giusti saper giocare e provare le soluzioni che abbiamo nelle nostre corde quindi ripeto siamo consapevoli del livello di difficoltà della gara però siamo consapevoli del fatto che stiamo bene siamo completamente focalizzati su quella che è la partita di domani per i motivi che abbiamo appena rappresentato però sappiamo altrettanto bene che alla fine di questo mese dopo queste partite che ci saranno avremo delle idee un po' più chiare di quello che abbiamo fatto e soprattutto di quello che dovremo fare e quindi per poter arrivare alla fine di questo mese dobbiamo essere bravi a far sì che dalla partita di domani essere presenti sul campo con la serenità di una squadra che è consapevole delle proprie qualità e con la ferocia di una squadra che vuole continuare ad aggiungere punti a quelli che già abbiamo questa classifica va guardata fra un pochino abbiamo ancora diverse partite difficili da affrontare vogliamo farlo nel migliore dei modi per poi riuscire a delineare meglio quello che può essere il nostro obiettivo finale ci sono tante gare che sono state rinviate compreso la nostra in questa giornata credo ci siano ancora altre tre partite ufficialmente rinviate quindi è una classifica bugiarda che all'improvviso può far sì che una squadra che sembra tirata fuori rientri dentro una squadra che invece sembra che abbia il vento in poppa possa riuscire fuori in un attimo con questo noi siamo consapevoli che è una grandissima difficoltà di questo campionato è proprio per quello che chiedo sempre ai ragazzi di mantenere alta la concentrazione per non avere cali di tensione e far sì che ovviamente in ogni partita questa squadra possa essere presente per esprimere le sue qualità